Ma che cag... Giuseppe è scemo e puzza. Cesto. Ma non è vero! Brutto schifo è di un cesto di quattro... Cesto è dietro di te! Ti butto fuori da Minecraft! Sì, picchiamolo! Comunque questo, come potete vedere, questo è il mio super PC, il mio super computer estremo in cui faccio i video e gioco a Minecraft. Questa è la mia camera suprema. Vabbè, noi ci possiamo guardare i video vietati e meno! No! 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 Vabbè, dai, siamo in un nascondino, ne faremo tanti di nascondini con tante mappe diverse, quindi... Sì, Giuseppe, non faremo... Quindi scendiamo e iniziamo a giocare, venite! Cosa è un altro cartello, Giuseppe? Scemo! Il primo che conta sarà cesto, non ti lamentare, mettiti qui, guarda, mettiti lì sotto, guarda, proprio lì sotto, in quello lì, vedi lì, vedi lì, vai! Ma cesto, Franca, posso un attimo cambiarmi per mettervi più paura? No, no, non ti azzardà, se ti cambi qualcosa, giuro che non farai mai più video con me. Ma, papà, posso, 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 posso... No! Se vedo qualche parte è diversa dal corpo, ti picchio. Cesto, ti amare. Cesto! Cesto! Fino a quattro tempo? Trenta, trenta! Fino a trenta e guarda il muro! Mi, tre ore. Conta fino a... Quaranta! Oh... Hai detto fino a trenta! Muto! Guarda, io pure mi muto così non mi sente. Ah, che scemo! Dai, dove andiamo? Giù, dove andiamo? Vieni, vieni! Dentro il pc, dentro il pc! Dovra, vieni! Guarda! No, no, eh, no, ma qui non ci troverà mai. Eh, è buono. Aspetta, allora confermiamo. Cesta che si vede il nome. Oh, vabbè, cesto, vai, puoi iniziare. Ci siamo già nascosti benissimo! Oddio! Non alzarti a chi scorda. Eh, appunto. Allora... Ah, io te l'ho paurissimo. Vedi che io sono un buono bambino, ma c'è... Se mi trovi subito sappi che devi rifarlo. Ma come? Sì. Ma io vi picchio. È bello che io pure lo vedo. E pure io? Che c'è? Che c'è? Ah! Che è? Che è un buono bambino! Ah! Oh no! Facciamo così che facciamo la rivincita perché abbiamo praticamente fatto schifo, ok? È un buono schifo! Eh? Quindi... Che si esce da... Quindi c'è... Da lì bisogna fare un salto supremo. Uno pure da... Vabbè, dobbiamo rifare. Costa... Conta di nuovo, Cesto. Ok, Cesto? No, ma qui spawner mo'. No. Fa niente. Cesto, conti di nuovo tu. Non ti lamentare. Sempre. No, Cesto. Finisci di lamentarti. Ok. Non ruttare. Vabbè, dai, Cesto, conta di nuovo. Io sono un nascondiglio supremo. Dai, conta di nuovo, ok? Vai. Guarda in giù. Guarda in giù. Aspetta, aspetta, mi devo mutare. Non devi contare, ti dico io quando ti puoi nascondere. Ok. Allora. Mi era aperto il microfono, mi si era staccato dal cuffio e ho dovuto fare un'operazione chirurgica. per rinabilitarlo. Ma danno che adesso io gli dico... Lasciate like a questo video e siamo letti bene a Francesco. E spalmate sotto nei commenti hashtag Giuseppe Scemo e Puzza perché sono una fatica delle cattive persone. No, giù, no, giù, ma lui ci trova, lui ci trova, secondo me. Se Francesco mi sta parlando sopra in questo momento sappi che ti vengo a trovare a casa. Certo, sa. Avete finito o ci mettete ancora molto? Dai! Io sono pronta. Vengo anch'io con te. Però non bisogna mai mettersi in questo momento. Quando stai maneggiando? Io mi metto solo. Stai maneggiando le armi russe. Da bene, dai. Fra, attiva il microfono. Vabbè, sapete, ma di realtà Francesco è un soldato russo. Sì, ha un soldato russo. Ma c'è un soldato russo. Io rottorò la matta. Un soldato russo, lui. Smetti di parlare alle soldate e viene a cercarci. Scemo. Donate che fai video a maneggiare le armi russa, no? Eh, già, già, ma Giuseppe è russa. Tu sei un soldato russo, maneggiare le armi russa. Sì, non è russa. Sì, non è russa. Ma se vi trovo anche adesso cosa succede? Eeeh, niente. Ah, ok. Giuseppe è tipi. Ah, tu non devi mai ciftare che se no ci vedi, ok? Eh, se noi dobbiamo sapere tu dove sei, ok? Quindi smetti di ciftare. Perché non vedo il tuo nome? Sta ciftando. Sta ciftando, cretino. No, eccolo lì. Non sto ciftando. Ah, quindi siete vicini se vedete il mio nome? Vabbè, il nome non è che è anche piccolissimo lo posso vedere, lo sai? Eh, ma state fregando con le vostre seste, la vostre seste, la vostre seste. Esco, stiamo dalla porta, Gesù bambino. No! Giuseppe, tu devi stare. Sta salendo scale, ho sentito. Grazie per gli indizi, intanto, che mi state dando. Lasciate a... Scale, si sentono! Scemo! Sì, la scena di me ti ho fatto tutto di legno, i bambitti. Si è appartito un rumore orribile. Ma l'ho sentito, eh! Che scemo, non ci troverà mai! O... Ma giù, io cambio la sconda. No, 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 aspetta, è lontano. No, 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 aspetta, è lontano. Si, dai, dai. No, no, no. Io affaccio, affaccio, sì, è che certo che possiamo, almeno io posso, tu no. Oppure io. No, 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 non cambiate la sconda. Giù, 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 giù. C'è il lachi che abbia, intanto. Vabbè dai adesso conta Giuseppe Giuseppe non c'è Guarda cosa faccio adesso Vabbè tanto adesso conta Giuseppe Vai nell'angolino Dove era Cesto Noi ti diciamo quando sei pronto Tu girati che non devi guardarmi E giocherai tutto il tempo con la sedia girata Quindi finiscila Se guardi ti picchi Vieni qua Sono un posto dove è impossibile Che ci trovi Io non posso parlare Perché se non lui poi vede E noi piangiamo Vieni devi venire qui Che scemo Ma scemo Ma sono caduto Tieno fuori i tentacoli porca vacca No 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 qui non ci puoi mai trovare Sono emozionatissimo Sono emozionatissimo No no qui è impossibile Non possiamo neanche più uscire Penso se possiamo Se ci trovo Vabbè dai Posso Sì Puoi venire Tanto tu fammi vedere un attimo Il tuo visore No no non ti togliere dalla postazione Cesto 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 Ci sei o Oh no Oh no Cesto Ma fra Che Che c'è Che No Ci ha visti Ma che scemo Cesto 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 Ci ha visti Quello scemo Vabbè Tanto adesso Ricontarvi Perché Devi ricontare te Vai Rimettiti all'anguino Io sono Io sono magico Sì Cesto Io sto Sono cucito del mango berlino Subito Vieni qua Boh dai Tu intanto Non guardare Stai tranquillo Lì Non pensare mai più a niente Non guardare ovviamente So che stai guardando Mettiti cifta Ho sentito Una scorrezza Che scemo Ok dai Io sono pronta Cesto Dovrebbe Levare Dai Puoi fare Dai Sono pronti Sì Tu resta qui Che dai Dai Scemo Tanto non ci può Eh no Non vale No Non vale Non vale No Non vale Ma dov'è Io non lo vedo Neanche più il nome Tu lo vedi Sì Sì Io no Siamo piccioni Siamo piccioni Siamo piccioni Vai 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 a salutarlo No No Basta dare pugni Sto per morire No Chi si fa colpire È È È un Che c'è Che c'è Che c'è Che c'è No No A me Non mi trovo Non mi trovi Scemo Come cavolo ride Cest Cest Sali sul letto No Oh no Cest Dai Già ho preso No dai Cest è stato preso No Che brutta Cosa No Adesso Adesso Francesca Ti veniamo a prendere No Adesso anche c'è Adesso anche c'è 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 Dopo conto ancora Giuseppe No Dopo conto io No Che brutto Vuoi contare tu? Eh ma sì Devo farlo L'hanno contato tutti Adesso conto io Eh no Tu non devi contare Intanto io vedo Gli ostri novi E' così tardato Vi vedo da Sotto Mi vuoi guardare Nel cassetto Che dimbo L'interdato No Ho visto Giuseppe Per un attimo Poi è scomparso Per fortuna No Ho visto proprio te Però poi sei scomparso Ma buongiorno No Vabbè dai mi arrendo Dai Tocca a me Ah Dai Tocca a me Dai Mi mi fai più andare Vai Ti vuoi farmi prendere? Ah è vero Devi prendermi Ok bravi Ok so felice per voi Però Calmatevi No Finiscila Devo contare io Vabbè contare Voi ditemi quando sei Ah Io quando sono pronto Mi parto Quindi voi muovete Ok Ok vai 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 Ma potete andare Tanto Andate 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 Sì 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 Potete andare Voi state andando Vero? Sì Eh? Sì io sono ancora alto Siete pronti? No dai si sta mettendo in creativo No Siete pronti voi? No Ma siete sicuri sicuri che siete pronti? No Sì No Ok Ok Perfetto Io sono pronto No bravo aspetta no Non sono pronto Eh mi dispiace Giuseppe io sto partendo Eh che dobbiamo fare Mica possiamo rimanere tutto il tempo Fermi Solo cesto può rimanere fermo Allora Siete ciftati Questa cosa non mi piace Non mi piace proprio Io mi ricordo Ma Niente Io mi ricordo che I vostri nascondigli Perché stando con cesto E stando pure con Giuseppe I nascondigli io me li ricordo Almeno Aspetta No non è vero Non me li ricordo Una volta eravamo qui Però non c'è nessuno Ah mannaggia Mannaggia Dove poter Che ritardato Che problemi seri Che hai No ma adesso te li sei fatti veramente Perché Non so se era Non so se eri tu O Giuseppe Però ho visto qualcuno Era Giuseppe? Eh spero per te che era Giuseppe Eh che se no qui Brutta la situazione diventa Mio caro cesto Eh Testa di cesta Ma ma è Era Giuseppe Eh boh chi lo sa in realtà Magari eri tu Io Non mi sono mosso Cioè Perché cesto Perché No ma cesto Prende discorsi così A caso No Vabbè anzi è meglio Così parliamo di qualcosa Vai parla Non starei cittato Non sto cittato Ah allora sei lontanissimo Sì sì Vediamo un po' Non ti vedi Sicuro che mi vedi Giuseppe Ed è vicino o lontan È vicinissimo Non è vero Giuseppe mi sta trollando Sono sicuro Non è vero È lontanissimo Sono sicuro che Giuseppe Mi sta trollando Secondo te è vicino o lontan Non lo so Ma stai rompendo blocchi No Sì che stai rompendo blocchi No Giuseppe è bene Cioè sta Giuseppe pure È una persona che mente Tantissimo Ma stai rompendo blocchi Non sto rompendo ne Ma hai due blocchi di legno e mano Ma solo due Eh cacca Non è vero Io non li mangio Che No non è vero Sto scherzando Oh datemi qualche indizio Se no sto video dura 50 anni Ehm Piccolo indizio In alto o in basso? Io sono in basso Ma basso tipo qua? Basso Anche io Anche io Per almeno in basso Ma siete insieme? No No Ma siete sicuri sicuri? Sì Non ti mangiare patatine Mentre che faccio i video No Sono caduto Ma bravo Sei lontanissima da me No ma dai Non ci posso creare Basta Tra un po' mi arrendo Mi so pure messo di nuovo La mia skin normale Che cavolo Guarda c'è pure la mia maglietta Bellissima E No ma Giuseppe è scena No ma Giuseppe è scena Non ti avevo visto Perché Eh ti ho preso Scemo Dai Adesso manca solo Quel cretino di cesto Allora tu controlla Sopra la scrivania Io controllo qua in basso Puoi salire dalle scale Sulla scrivania Giù Ah bene Ecco ma Il cesto che sta facendo? Si sta Si sta Morendo? Si sta mangiando? Si sta mangiando No ma Lui se li decca Se li ciuccia tutti I suoi piedi Si ci ciuccia Tutti Guarda Guardalo là Guardalo là Guardalo là Che cretino Guardalo là Guardalo là Che cretino Ma che Che down Che sei Ti otturo Non voglio più vederti Dove sei? Guarda No Allora Fermo Fermo Parliamo Parliamo C'è stato preso Scemo Dai Venite qui Dai È stata Sono state Tre belle partite No più di tre Sono state 3-4-5 partite Perché Giuseppe e Cesta L'hanno fatte due volte Perché erano scemi Vabbè Venite subito qua Vi picchio I piselli Vieni qui Dove fare il tuffo Del delfino Ecco Io ho paura Però Perché? Quando ero là dentro No Ho visto una figura Si Sarà Tosoralla Che ti dice Ciao Vabbè Ragazzi Per questo video È tutto Ciao Ciao